Dici Franco Franchi e pensi subito anche a Ciccio Ingrassia? Beh, si chiamavano Francesco, tutte e due. Il nome d'arte li ha portati non troppo lontani da quel nome originario. Francesco Bennato in arte Franco Franchi e Francesco Ingrassia in arte Ciccio. Quante volte abbiamo sentito fare Ciccio, quella espressione con cui Franco è entrato nella testa e nelle risate di tanti di noi. Negli anni 60 e 70 erano i campioni d'incasso assoluti nelle nostre sale, rivaleggiando con film di grande qualità. C'è da dire che loro non erano i film più spettacolari e meglio costruiti. Pensate che nel 64 ne realizzarono 22 in un solo anno. Da soli valivano il 10% degli incassi di tutto il sistema cinematografico in quell'inizio della seconda metà del Novecento. Hanno litigato spesso e si sono separati. Franco Franchi da solo è stato capace, penso anche solo al film Chaos con i fratelli italiani, di interpretare anche ruoli drammatici e potenti. Tutte e due sono stati tentati dai grandi. hanno incrociato Pasolini e Fellini lungo la loro strada. Ci hanno consegnato l'idea di una coppia che si può scoppiare, ma che nella memoria degli italiani resta indissolubilmente unita. Non sono le due figure più grandi del cinema italiano e neanche della comicità italiana, ma certamente sono uomini che accendono ancora oggi almeno un po' il nostro sorriso. Io solo sa quanto ne avremo bisogno, anche in questa fase in cui dobbiamo uscire da troppe depressioni e ritrovare la pazienza e la gioia di un sorriso semplice.